Buongiorno, sono i miei copertesi di NGCAM, NGCAM è un'azienda che nasce come profilo di progettazione e servizi nel campo dei sistemi elettronici, in vari campi di applicazione, dall'industriale all'automobile, all'automobile, anche al consumer. Nei dieci anni di esperienza dell'azienda si sono concretizzati i sistemi basati su microconcessori ARD e SCALE sostanzialmente, che hanno generato una serie di moduli che possono essere organizzati da sistemi integratori, da aziende che intendono realizzarsi sistemi di visualizzazione abbastanza spinti, poi passando una fase di progettazione importante che può essere considerevole sia nel tempo che nel posto. In particolare poi questi oggetti, nell'ambito di una distribuzione che può essere quella di compie che oggi qui ci rappresenta, può essere ulteriormente integrata proponendo dei sistemi pronti all'uso che permettono di selezionare una size di display, una size per quanto riguarda il modulo, sia performance che quindi costi, e una selezione di un sistema operativo più idoneo all'applicazione. Facendo questo si riesce in brevissimo tempo ad avere, nel caso si voglia realizzare per tempo un pannello operatore industriale, quindi che abbia una garanzia di fornitore nel tempo, che abbia dei requisiti in ambienti ostili, quindi con temperature che vanno dai meno 40 di 85 gradi, premesso che i display ci vadano, in tempi che si riducono nell'arco delle poche settimane, quindi anche il mese.